Bene, bene, bene. E già, come si dice, anno nuovo, abitudini vecchie? No, mi sa che non era proprio così, eh. Eppure, eccomi di nuovo qui, nel bel mezzo della notte, catapultato fuori da quel caldo terpore che mi stavo nella mia mente, da poco tempo godendo, chiamato letto, catapultato fuori, dicevo, nuovamente, da un qualcosa di non ben chiaro, di non ben specificato, una sensazione, quasi una necessità impellente di doverlo essere sbalzato fuori. E no, non sto parlando di una necessità fisica che sarebbe una cosa classica, il bisogno di andare a svuotarsi in quell'angolino che a volte sembra il nostro preferito, che chiamiamo bagno, toilette. No, quella sensazione, invece, è sempre la stessa, proprio quella dell'anno scorso, quella di sentire la necessità di... ecco, sì, comunque far uscire qualcosa, ma a punto di non fisico, in quanto sono di nuovo loro, sono di nuovo i pensieri scalcitanti, inconsapevoli e inconsci, reconditi e purli presenti, che chiedono di... come direbbero, se potessero parlare, da buoni imitatrici citazionistiche alla Dante, chiedono di venire fuori a rimirare le stelle, per poter essere nuovamente come esse, una sparkle in the dark, una scintilla nel buio. Grazie a tutti, 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 Ma che mi sa che non sono tanto casuali, perché mi rendo conto che, poiché ormai è da un bel po' passata la mezzanotte, guardando sul computer leggo 6 gennaio 2024. E quindi mi accorgo che probabilmente quella necessità di cui sentivo il bisogno era proprio di ricordarmi, cosa che altrimenti molto probabilmente mi sarebbe sfuggita di mente, che oggi è quel giorno del nuovo anno che da piccoli aspettavamo tanto impazientemente, quasi quanto il Natale stesso che poco prima l'aveva preceduto. Perché sì, sapevamo che forse, o almeno io lo sapevo, non ero stato tanto buono l'anno precedente e già mi sembrava tanto aver ricevuto un regalo da Babbo Natale, che difficilmente mi sarei potuto immaginare di ricevere qualcosa pochi giorni dopo da quell'altro strano personaggio chiamato Befana. Che tra l'altro, a me personalmente, a differenza di tanti altri bambini, mai aveva preoccupato più di tanto, nemmeno spaventato, seppure fosse sempre dipinta come vecchia, brutta e tra l'altro con un appellativo non poco rassicurante come quello di strega che rapisce i bambini, la cosiddetta stria delle fagliastrocche venete, che poi in realtà scopri crescendo che non sono proprio venete e neanche la parola stria, ma questa è un'altra storia. Comunque sì, noi fiduciosi, o almeno io fiducioso, appendevo comunque la mia calza, non al cammino, in quanto non ce l'avevamo, ma vicino alla stufa a legna, ve la ricordate la stufa a legna? Ah, quello sì che è un bel caldo, va bene, non divago, nella speranza di trovarla piena il giorno dopo, ovvero alla luce di oggi, tranno molte ore, poiché più o meno mi svegliavo tra le otto, no, tra le sette, le otto, e puntualmente, con una nostra grande sorpresa, spesso la trovavamo piena, e quando ci andava male, o quando mi andava male, o anzi per essere forse più corretti, quando mi arrivava la giusta retribuzione, in base al mio comportamento dell'anno precedente, ero comunque contento, perché dentro sì, c'era il carbone, ma caspita se era buono, era così dolce, e quindi ero contento anche con il carbone. Befana, quindi. Ma io non voglio soffermarmi sulla stria, e quindi non posso fare a meno di capire che questi pensieri vogliono cercare di far luce proprio sulla festività dell'Epifania. Cosa festeggiamo nell'Epifania? Bene, tutti diranno qui, eh, vabbè, capirai che scoperta, l'Epifania, l'hai appena detto, le calzi, i dolci, essere bravi tutto l'anno, non incappare nella stria, ma non è questo, l'Epifania. I più acculturati sapranno che l'Epifania festeggia la presentazione di Cristo al mondo. Ma in che senso la presentazione di Cristo al mondo? Bisogna intanto partire dal fatto di capire cosa significa la parola. Epifania è una parola greca, dell'antico greco, che si traduce appunto con manifestazione, e indicava di solito un qualcosa legato all'azione o appunto alla manifestazione di una qualsivoglia divinità, fosse questo attraverso miracoli, visioni, sogni o cose simili. era quindi sempre una manifestazione di qualcosa di positivo, di una luce, ecco che ritornano le nostre scintille, anzi, in questo caso, la scintilla, della luce più grande, del divino, che spesso come segno usavano proprio una stella. ma tutto questo legato a un altro fatto storico. Questa manifestazione di Cristo al mondo avveniva perché secondo una studio e un'adattazione degli antichi testi biblici fatta da uno dei padri della Chiesa, ovvero Tito Flavio Clemente d'Alessandria, si scopriva che una delle prime comunità cristiane festeggiava il battesimo di Gesù Cristo nelle acque del Giordano e quindi quella che per il popolo ebraico all'epoca era appunto una presentazione al mondo di una vita, di un bambino, la prima presentazione pubblica di una vita attraverso il battesimo, una vita nel popolo ebraico e quindi una manifestazione del Signore, del Cristo al mondo, bene, veniva festeggiato proprio il quindicesimo giorno del mese di Tibi dell'antico calendario alessandrino che era proprio corrispondente al nostro 6 gennaio. Ora però la cosa si fa interessante perché sebbene si parta da questo, dal giorno del battesimo, per un'altra serie di interpretazioni, di documenti, di abitudini delle prime chiese fino al III secolo, delle prime comunità cristiane, soprattutto quelle del vicino Oriente, tale manifestazione veniva traslata anche nella adorazione di appunto i tre simboli che di solito accompagnano una manifestazione del divino nel mondo in maniera unita e pertanto la tradizione in qualche modo è sopravvissuta fino ai giorni nostri perché veniva ricordato nella stessa data sia l'adorazione dei magi che vanno a visitare il bambino appena nato, sia il battesimo di Gesù adulto nel fiume Giordano che addirittura il primo miracolo che adulto egli fa alle nozze di Cana. In seguito probabilmente per una serie di necessità pragmatiche, tecniche diremmo, tali festività vennero poi divise poiché diventava veramente complicato gestire tutta una massa di pellegrinaggi che partivano per raggiungere il fiume Giordano e Bedrelemme e visitare tutti questi luoghi dove appunto si respirava la storia del nascituro e ormai non più presente Cristo nei suoi vari luoghi e quindi una manifestazione pubblica di un bambino fatta nel mondo ebraico per far capire al mondo ebraico e poi grazie al suo sacrificio a tutti coloro che crederanno e vorranno credere e seguire il suo insegnamento che quel bambino era non solo esistente e reale parte della comunità ebraica ma era anche figlio di Dio come si dice che in lui vi era del divino ora cosa aggiungere a questo potremmo fare un attimo potrei fare un attimo un accenno veloce alla Befana a questo punto a questo personaggio contraddittorio che sembra non centrare nulla con un qualcosa di positivo come dei magi che seguono le stelle e vanno a visitare un bambino portando doni doni simbolici ovviamente che noi sappiamo essere oro incenso e mirra l'oro come minerale conosciuto da tutti prezioso moneta di scambio la mirra usata di solito per essere ecco sparsa sul corpo di una persona defunta ma molto costosa e di solito usata per il re e l'incenso offerto spesso alle divinità appunto al dio cosa c'entra con l'acqua che bagna la fronte di una persona adulta che si mostra quindi si fa conoscere al suo popolo come facente parte a tutti gli effetti del popolo o cosa c'entra ancora con dicevo cosa c'entra ancora con per l'appunto la figura di Gesù Cristo sembra non centrare nulla ebbene allora vediamo se riesco a ricordarmi perché ragazzi non è così così facile partiamo partiamo da quel ricordo che tutti abbiamo in testa la befana viene di notte con le scarpe tutte rotte e poi mi sembra che diceva con i vestiti trasandati per portare via i bambini che non si sono ben comportati qualcosa di simile ragazzi scusatemi ma vado a nastro beh come sempre è facile capire da dove arriva come tutte queste cose che sono legate a doppio filo con festività cristiane è anche lei un residuo di un cosiddetto insieme di riti pagani riti propiziatori come sempre un po' come quelli dei sostizi d'inverni dei sostizi d'estate anche qui appunto legati sempre al mondo dell'agricoltura ai cicli stagionali al raccolto alla rinascita dell'anno nuovo anche qui legata a doppio filo con il culto antico di Mitra con alcuni culti addirittura celtici che si sappiamo essere stati anche loro sulla nostra band bella Italia addirittura fino a trovare dei collegamenti con l'inverno boreale ma molto più probabilmente proprio la figura della Befana ha a che fare con una figura celtica di nome Percta diffusa un po' in tutta Europa in Gran Bretagna con il nome di Bertha nel mondo tedesco in Francia e Nord Italia con il nome di Bertha in Germania con il nome di Hölder o meglio ancora Frau Hölle che tra l'altro qui viene ancora festeggiata e si gettano le caramelle dal balcone di Frau Hölle dove viene di volta in volta scelta ogni anno attraverso una selezione anche abbastanza stretta c'è comunque una selezione tra coloro che si propongono per vestirsi da Frau Hölle e da un balcone buttare le caramelle ricordo che tra l'altro condivido qui con voi si era addirittura per una ignota ragione a me per una a me ignota ragione consolidato all'interno della festa del paese Veneto dove io sono cresciuto da bambino perché si io sono cresciuto in un paese chiamato Pieve Belvicino frazione del comune Torre Belvicino guardate che fantasia città del Belvicino Torre del Belvicino dove nella festività del santo patrono che era a San Giovanni Bosco c'era proprio questa abitudine tra le altre da parte del sacerdote di andare al piano superiore della casa della gioventù dove si faceva il catechismo dove si passavano i pomeriggi dove c'erano i gruppi ricreativi dell'estate non so chi si può ricordare cos'è una casa della gioventù ma forse ce ne sono ancora e appunto andava in cima e buttava sacchettate di caramelle dove noi bambini ci fiondavamo come i colombi a San Marco quindi curiosa questa cosa e in Scandinavia portava il nome di Frigg che altro non era che una personificazione femminile dell'inverno che veniva rappresentata vecchia gobba col naso storto con i capelli bianchi spettinati in maniera proprio così orrenda proprio per far capire quanto brutto potrebbe essere stato un inverno e nella speranza di portare via appunto questo inverno di sdrammatizzare potremmo dire attraverso il regalo dei dolcetti la durezza dell'inverno inverno che in parte era iniziato ma che in parte doveva ancora continuare e finire e quindi questo regalo di dolci era al tempo stesso un modo per dimenticare quel freddo quel brutale inizio d'inverno che c'era già stato e alleviare quello che sarebbe potuto arrivare il nome Befana tra l'altro deve la sua origine a un uso dialettale del quindicesimo secolo soprattutto nelle antiche terre di cosiddette dietruria che altro non erano che la toscana e la tuscia che è una zona dell'attuale lazio e vabbè che mondo strano tra l'altro questo regalare doni voleva essere anche un po' un legame affettivo se vogliamo alla tradizione religiosa di Santa Lucia simile a sua volta a quella di San Nicola precursore ricordiamoci del babbo natale nostrano l'abitudine e la tradizione che avevano appunto questi due personaggi di fare doni ai bambini di pensare prima ai bambini soprattutto quelli più bisognosi che non a se stessi e quindi la Befana è l'inverno fatto donna che esorcizza se stesso ma anche l'omaggio a Santa Lucia essendo donna e a San Nicola per fare doni ai bambini e quindi proprio come in inverno non è più una cosa che è cattiva ma è solo quello che è in quanto inverno e in realtà non deve essere spaventosa e spaventevole e non è arrabbiata con nessuno ma mentre Santa Lucia e San Nicola donavano senza chiedere nulla in cambio lei gradisce e qui la furbizia del mondo adulto che i bambini si comportino bene e siano bravi e allora in quel caso sarà pronta a dare un sacco di doni e sì ma la calza la calza perché la calza perché diciamo che anche per i più poveri era abbastanza facile avere una calza che poteva essere riempita con dei doni o forse invece era perché il sacco dei doni della Befana più che un sacco assomigliava a una specie di calzettoni visto che il materiale quando comincia a allentarsi perde la forma e diventa appunto bislungo come un calzettone chi lo sa e il carbone beh il carbone serviva a ricordare proprio il fatto del cambio di stagione serviva a ricordarsi che avremmo avuto bisogno di carbone per rendere meno duro e freddo l'inverno che ci aspettava anche perché diciamocelo la storia originale secondo la quale la Befana avrebbe dato carbone e aglio ai bambini meno buoni non sembrava tanto carina e quindi si tolse l'aglio e si lasciò il carbone ma che mondo che mondo sempre questo residuo di festività pagane di tradizioni antiche che inevitabilmente continua e continua ad intersecarsi da qualunque parte esso venga con il senso religioso con il sacro e nonostante tutto oggi sia solo commercio e pubblicità ancora continua a resistere in qualche maniera io comunque è da tanto che ho smesso di preoccuparmi di essere buono o cattivo e meno che meno di aspettarmi regali o calze riempite ho smesso di pensare al carbone anche se quello dolce devo dire che un po' mi manca anche perché i costi di riscaldamento di oggi mi fanno pensare che forse era meglio quando c'era il carbone e la stufa legna o ancora meglio il cammino tra l'altro qualcuno potrebbe chiedersi ma perché portava il carbone per l'inverno anziché il legno che era molto più comodo e anche per le famiglie che diciamocelo erano loro che riempivano le calze non di sicuro la befana era più facile mettersi del legno però vi immaginate la faccia del bambino nel trovare il legno come gliela spieghi e soprattutto metti del legno in una calza hai distrutto la calza e l'hai già riempita invece il carbone è un pezzettino e magari ci stava sia un pezzettino di carbone che magari pure un dolcetto dentro o anche ecco una tradizione che spesso si usava nel mondo contadino soprattutto era di mettere le castagne dentro e beh sì perché non sono un tesoro non sono una cosa dolcissima che puoi mangiare subito ma quanta allegria e compagnia fanno e quanto buone sono quando le metti sul fuoco a cucinare quanto mi mancano va bene sto divagando quindi dicevo il mondo pagano che nonostante il mondo commerciale e velocista di oggi ancora non riesce a staccarsi a districarsi dal suo legame col mondo sacro e permane per offrire a noi e alle nuove generazioni dei momenti delle scuse per cercare di far festa per cercare di stare vicini spesso con poco successo perché ripeto ormai è tutto commerciale ma è comunque bello sapere che forse ciò che facciamo e ciò che non facciamo ha una qualche influenza sull'ambiente sul mondo sulle persone che ci circondano e quindi ci dobbiamo ricordare più spesso non solo il 5 6 di gennaio poco prima o il giorno stesso appunto dell'epifania di dover comportarci bene per avere qualcosa di buono e non incappare in qualcosa di brutto forse dobbiamo ricordarci più spesso che quello che facciamo ha un peso non solo nella nostra vita ma anche soprattutto nella vita degli altri e chissà forse ricordandoci questo più spesso potremmo poi aver voglia di dividere le cose dolci che sono in noi con coloro che purtroppo hanno solo il carbone e no questa volta non parlo di quello dolce ma del carbone quello vero perché anche se sembra difficile crederci spesso noi abbiamo caramelle ma chi c'è poco distante o proprio a fianco ha solo il carbone per vivere e quindi se noi ci comportiamo sempre bene forse avremo così tante caramelle che potremmo condividere con coloro che hanno il carbone bene con questo ultimo fiacco pensiero non mi resta che dire che così facendo saremo anche noi nuovamente e quotidianamente una scintilla nel buio una sparkle in the dark buonanotte in the dark in the dark in the dark Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.